Sono Elisa Conti. Se anche tu sono amante del viaggio, dell'avventura, dell'esperienza e del mondo in generale, questo è il corso adatta a te. Il corso di laurea in scienze del turismo, infatti, non si limita ai soliti sbocchi professionali comunemente noti, come per esempio receptionist, guida turistica o agente di viaggio. Al contrario, questo corso apre le porte a quello che è un settore pieno di fascino, in gran parte ancora sconosciuto sul panorama moderno, soprattutto per quanto riguarda le grandi opportunità che è in grado di offrire. Il mio tirocinio, presso il Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazioni Internazionali, è un chiaro esempio di come questo settore possa offrire grandi opportunità e carriere diverse. Durante il mio tirocinio, durato da ottobre a gennaio 2021, mi sono occupata di quella che è la programmazione e l'organizzazione di un evento, come quello di Expo Dubai.